Davide, è vero che siamo al campionato di pasticceria e cioccolateria, ma Napoli e la sua pizza... Non poteva mancare, non poteva mancare. Noi innanzitutto abbiamo oratissimi sempre di stare qui vicino ai giovani. Ricordiamo che stiamo all'alberghiero di Eccolano e a questo campionato di pasticceria Rosso Pomodoro è sempre presente per i giovani, infatti spesso facciamo sempre collaborazioni scuola-lavoro con i giovani perché sono il futuro. Scusateci, scusateci, capita che è il bello della diretta, ma soprattutto praticamente questa è la serata dedicata allo street food e non potevamo non portare la pizza a portafoglio e soprattutto la pizza fritta, le tipiche pizze dello street food napoletano. Ci siamo, siamo qui, siamo felici di questo e soprattutto di esserci sempre. Grazie. Grazie a tutti voi, saluto a tutti gli amici di Radio Siani e ci vedremo presto. Bravo, ma ci mandi un messaggio a questi giovani che arrivano da tutta Italia? Allora, il messaggio l'ho detto anche ieri e lo ripeto, ascoltate di più e mettete in pratica ciò che imparate. Questa è la cosa che voglio dire a tutti i giovani, perché spesso si parla solo ma senza conoscere. Meglio ascoltare e poi trasmettere. Un abbraccio a tutti.